Che cosa riprende? La danza della morte E quella è la morte? Sì, che prima o dopo danza con tutti Che argomento triste esce? Voglio ricordare alla gente che tutti quanti dobbiamo morire Non servirà a rallegarlo E chi ha detto che ho intenzione di rallegrare la gente? E chi ha detto che ho intenzione di rallegrare la gente? Stamane è venuta da me la morte Abbiamo iniziato una partita a scacchi Con il tempo che guadagnerò sistemerò una faccetta che mi sta a cuore E di che si tratta? Ho passato la vita a far la guerra A andare a caccia Ad agitarmi, a parlare senza seduto Senza ragione Un vuoto E lo dico senza amarezza e senza vergognarmi Perché lo so che la vita della maggior parte della gente è da Ora voglio utilizzare il respiro che mi sarà concesso Per un'azione utile Per questo hai sfidato a scacchi la morte? Sì Per un'azione utile Per un'azione utile Ah 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti